La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Dopo aver visto la deriva filocinese intrapresa dal Movimento 5 Stelle, proprio nel periodo dell'escalation della guerra fredda tra USA e Cina, con Grillo che addirittura dal suo blog parla di contenere l'irresponsabilità americana, mentre Di Maio offre un tappeto rosso al ministro cinese per tenere un comizio anti-americano. Bene, a questo punto non ho più dubbi e posso avanzare alcune ipotesi. Il governo filocinese di Conte cadrà entro fine anno e a farlo cadere sarà Matteo Renzi. E' questo il motivo per cui, a mio parere, i membri delle oligarchie finanziarie lo hanno convocato per la prima volta nel 2019 nel più importante consesso internazionale, ossia il club Bilderberg. Con ogni evidenza gli avranno chiesto di rendersi dapprima garante dell'accordo PD-Movimento 5 Stelle, di fondare poi un proprio partito ed uscire dal PD in modo da diventare ago della bilancia in attesa del prossimo segnale. Ed è proprio quello che è accaduto. Segnale adesso che arriverà se troveranno un'intesa su un nome come Mario Draghi, sostenuto anche da Forza Italia e dalla parte anti-salviniana della Lega. Se ciò non dovesse accadere, allora si dovrà accelerare su misure come il MES e il Recovery Fund o tutte le altre nate per ingabbiare l'Italia a trattati e a debiti internazionali, in modo che un ipotetico governo di centro-destra venuto fuori dalle urne non potrà realizzare nulla di quanto promesso, in quanto il Paese si troverà a tutta velocità su binari prestabiliti, con vincoli inviolabili ed eterodiretto dall'esterno. Governare con le mani legate e senza poter effettuare una decisiva sterzata vuol dire andarsi a schiantare e perdere consensi. In questo modo la coalizione di governo scelta dagli italiani verrà finalmente disattivata e si tornerà al concetto di tecnocrazia, quello che vogliono i membri del cartello finanziario internazionale e ci riusciranno facendo appello all'emergenza. Intanto, con ogni probabilità, avranno già trovato il nuovo Monti con Draghi probabilmente in corsa verso il colle. Questo è quello che faranno. In alternativa, l'ipotetico governo che uscirà dalle urne dovrà fare accordi con il rieletto Donald Trump, cacciando i cinesi dal paese e rinnegando gli accordi firmati dal teleguidato di Maio. In questo modo potrebbe barattare la chiusura della Via della Seta con il supporto atlantico per uscire dall'euro. Little Exit sarà infatti l'unica alternativa al governo democraticamente eletto dagli italiani. Questo è quello che potrebbe accadere con un governo realmente sovranista. Unica nota sicuramente positiva e che vedremo nell'immediato è il fatto che il filo cinese e il filo europeista Movimento 5 Stelle nel giro di tre mesi non sarà più al governo. Cominciate il countdown. Sia che venga eletto Trump, sia che venga eletto Biden, un governo filo cinese in Italia non avrà ragione di esistere. approfondimenti sul sito francescomodeo.it Un caro saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.